Ok questo forse è un pochettino estremo Funziona ancora Grazie a tutti Ciao ragazzi oggi video in collaborazione con TrueNight video nel quale come avete letto dal titolo parleremo di torce Ho qui con me alcuni modelli adatti ad un utilizzo outdoor che penso possano interessarvi Voglio mostrarveli e fare qualche confronto Non vi preoccupate non ho intenzione di mettermi a fare un noioso elenco di specifiche Trovate tutto scritto in maniera chiara ed esauriente sul sito di TrueNight Quello che mi interessa è fare delle veloci prove sul campo Farvi vedere quanto illuminano Soffermarmi su quelle tre o quattro caratteristiche principali Che vi permetteranno di distinguere un modello dall'altro Ed eventualmente di scegliere quello che fa al caso vostro Seguitemi fino alla fine del video ragazzi Perché ci sarà una sorpresa per voi Come si sceglie una torcia per le attività outdoor? Vediamolo velocemente Per prima cosa meglio orientarsi su modelli che siano resistenti all'acqua e agli urti Tutti i modelli che vi mostrerò in questo video lo sono Una domanda che spesso mi viene fatta è meglio una torcia classica o una lampada frontale? E ancora quanto deve essere potente la torcia? Quanti lumen sono necessari per un'escursione notturna? Per un pernottamento? Per tutte le attività in cui ci si sposta Quindi trekking notturno, mountain bike, corsa Io consiglio una lampada frontale In un trekking sicuramente avrete le mani occupate dai bastoncini In mountain bike idem vi serviranno per tenere il manubrio E correre o fare trail running con la torcia in mano tipo staffetta non mi sembra proprio il caso Per quanto riguarda un'attività statica come il campeggio Possono andare bene entrambe le tipologie di torcia Una frontale ha sempre comunque il vantaggio di lasciarvi le mani libere Ma una torcia tradizionale può essere poggiata a terra o in qualsiasi altro punto del campo Può essere appesa Può essere messa in piedi su una superficie piatta Può essere dotata di un diffusore che la trasformi in una sorta di lanterna Voglio citare anche la pesca perché è una delle attività outdoor che pratico Ecco nel caso della pesca pur essendo un'attività statica Consiglio comunque una frontale Per tutta una serie di motivi che quelli di voi che vanno a pesca sicuramente conosceranno Veniamo alla questione dei lumen Quanti lumen sono necessari per le attività outdoor? Piccola nota tecnica Ma che cavolo è sto lumen? Perché magari molti di voi se lo sono chiesto Detto in parole povere il lumen non è altro che l'unità di misura del flusso luminoso Ossia della potenza della luce emessa dalla nostra torcia Che noi riusciamo a percepire con i nostri occhi Molto semplicemente una torcia con più lumen illumina di più In base alla mia esperienza per muoversi in sicurezza all'aperto di notte In condizioni di buio assoluto su terreno accidentato Sono necessari come minimo un migliaio di lumen Se invece stiamo campeggiando quindi ci muoviamo in un ambiente circoscritto È sufficiente un flusso luminoso inferiore Queste ragazzi sono indicazioni di larga massima basate sulla mia esperienza Quindi non sono da prendere alla lettera Ma sono comunque sufficienti per cominciare ad orientarvi nella scelta della vostra torcia La mia collaborazione con True Night è iniziata circa un anno fa Quando dopo aver provato una delle loro torce ho capito che erano degli ottimi prodotti L'azienda mi ha proposto una collaborazione continuativa Offrendomi la possibilità di provare svariati modelli E lasciandomi quasi sempre la libertà di decidere in autonomia Come impostare la comunicazione con voi qui sul canale Tra le varie torce di True Night che ho avuto tra le mani La TH30 è sicuramente la mia preferita E voi che mi seguite lo sapete bene In ogni pernottamento ho questa lampada in testa Quando comincio a fare buio la tiro fuori dallo zaino e la indosso E questo mi fa sentire un po' più sicuro Perché dentro la mia testa dico Ok hai la luce, sei pronto ad affrontare qualsiasi evenienza Sono quelle piccole rassicurazioni che fanno bene allo spirito Quando si fanno i pernottamenti in solitaria Ho già parlato ampiamente della TH30 in diversi video Quindi vado veloce adesso I motivi per cui mi piace sono Che è comoda in testa La batteria dura a lungo E ha una potenza di picco allucinante Più di 3000 lumen Immaginate di sentire un rumore nel bosco alle vostre spalle E di voler vedere di cosa si tratta Basta metterla in modalità turbo Da qualche tempo a questa parte Ho iniziato a portare con me Oltre alla frontale Anche una torcia tattica di backup Specialmente nelle uscite in solitaria La torcia di backup rappresenta una fonte luminosa Completamente carica e pronta all'uso In caso di emergenza Ma può diventare anche un'illuminazione addizionale per il campo Nel caso la notte sia veramente molto buia Io a seconda delle situazioni Tengo la frontale sempre accesa ad un livello intermedio Che mi permetta di illuminare una buona porzione del campo In modo da non sentirmi oppresso dal buio All'occorrenza utilizzo anche la seconda torcia C'è la torcia di backup per creare un'illuminazione diffusa Magari puntandola su una superficie La mia torcia di backup è sempre una torcia di tipo tattico Che sviluppi almeno un migliaio di lumen in modalità high Tra poco vi spiegherò perché è importante la differenza Tra la modalità high e quella turbo E perché quando si sceglie una torcia Probabilmente ha più senso fare riferimento alla prima Piuttosto che alla seconda Diamo uno sguardo alla TC20 Che è una new entry del canale Tra poco la confronteremo con due vecchie conoscenze È una bomba di torcia ragazzi Solito corpo in alluminio pressoché indistruttibile Batteria ricaricabile da 5000 mAh Enorme Guardate Sembra la cartuccia del fucile a pallettoni Potenza massima 3800 lumen A scendere abbiamo la TT20 Red Che vi avevo già mostrato Anche questa è una batteria da 5000 mAh Ma la sua potenza massima è di 2500 lumen TC15V2 Anche questa l'avevamo già vista Anche questa può arrivare ad una potenza massima di 2500 lumen Ma la durata è inferiore perché la batteria è più piccola Anche qui ragazzi piccola nota tecnica La capacità di una batteria si esprime in mAh Ora e non in mAh Quell'H finale ha la sua importanza Quindi non ce la dimentichiamo Ve le metto in riga una vicina all'altra In modo che possiate confrontare le dimensioni Portiamo le tre torce al limite Questa è la TC15 2500 lumen Poi abbiamo la TT20 Red Sempre 2500 lumen TC20 3800 lumen A proposito di limiti Torniamo un attimo al discorso Sulla differenza tra la modalità high E la modalità turbo Voi sapete che questo tipo di torce Hanno diversi livelli di intensità E che quasi sempre si può passare Da un livello di intensità più basso Ad uno più alto Tramite la pressione di questo tasto Low Medium High Il comando per azionare la modalità turbo È quasi sempre un doppio clic Funziona così in quasi tutti i modelli di TrueNight Ecco la modalità turbo è quella modalità Nella quale la torcia sviluppa La sua potenza massima Ma che può essere mantenuta Solo per brevi intervalli di tempo Per evitare che l'apparecchio Si riscaldi eccessivamente e si rovini Alcuni modelli recenti Hanno proprio un sistema automatico Che riduce la luminosità In caso di surriscaldamento Quindi quando leggete Ad esempio nel caso della TC20 Torcia da 3800 lumen Sappiate che si tratta di un valore di picco Che potete mantenere fisso Per non più di qualche minuto È un po' come la temperatura estrema Nei sacchi a pelo È un punto al quale potete arrivare Ma nel quale non potete resistere a lungo Per questo prima vi dicevo Che quando si valuta una torcia Forse è meglio fare riferimento Alla modalità high Che nel caso della TC20 Prendo sempre questa come esempio È di 1800 lumen Per 2 ore e 25 minuti Non mi sono messo a fare misurazioni Ragazzi perché non possiedo La strumentazione adatta Non so dirvi quindi Se questi 1800 lumen Se li tira per tutte le 2 ore e 25 O se cala un pochino Ad occhio vi direi Che l'intensità della luce Rimane costante fino allo spegnimento E questo vale anche Per la TC15 V2 E per la TT20 RED Altra cosa che ho riscontrato È che True Night Ci prende abbastanza con le tempistiche Nel senso che le durate effettive Sono inferiori di pochissimo A quelle dichiarate È roba di minuti Quindi direi che ci possiamo stare Sempre facendo riferimento Alla modalità high Abbiamo circa 1400 lumen Per la TT20 RED Dura 4 ore Scemando sui 600 lumen 1000 lumen Per 1 ora e 20 Con la TC15 V2 Quale scegliere tra le 3? Eh eh Mo le voglio Anzi tra le 4 Ci butto in mezzo pure la TH30 Per me sono tutte ottime torce E spero ragazzi Di avervi dato Tutte le indicazioni utili A capire se almeno una di queste Fa al caso vostro Ovviamente come vi dicevo all'inizio Il mio è stato un confronto rapido E sintetico Per non appesantire troppo il discorso Per tutte le info dettagliate Su ciascun modello Vi rimando al sito di True Night Che trovate linkato in descrizione Sempre in descrizione ragazzi Trovate i codici sconto Aprite bene le orecchie Mi sono fatto dare da True Night Un buono sconto Del 10% Per ciascuna di queste torce Meglio di così si muore Aprite subito la descrizione del video E andate a leggere Tutte le informazioni Che ho lasciato per voi Se avete delle domande Scrivete nella sezione commenti E mi raccomando Fatemi sapere Se acquistate una di queste torce E come vi siete trovati Io vi ringrazio ancora una volta Per essere stati con me E ci si vede nel prossimo video Grazie a tutti i nostri spettatori